Anche se riesco a copiare uno spot nazionale sull'energia elettrica, vi posso garantire che anche a Bari il 14 febbraio del 1903 ci fu la corrente elettrica e in quale posto magico poteva debuttare la corrente elettrica? Pensate un po' nel teatro Petruzzelli. Il 14 febbraio del 1903 si accendono le lampadine del teatro con la nuova corrente elettrica, mentre Bari era ancora la città con i fanali a gas. Perché questo? Perché è un invito al nuovo CDA, è un invito soprattutto a chi ci lavora nel teatro Petruzzelli di imparare un po' di storia. Scusate se io dico questo, però sono anni ormai che siamo stanchi, siamo stanchi di vedere questi CDA, questi commissari, questi nomi che girano intorno al teatro che non sono nemmeno della nostra città. Un invito, prendiamoci, anzi riprendiamoci il teatro che tanti anni fa Onofrio e Antonio, insieme al principe, costruirono per la città di Bari, su uno spiazzo chiamato la Chiazze du Firfus. Riprendiamoci il teatro, ma soprattutto facciamolo noi, noi baresi, che forse quel teatro un pezzo di cuore ce l'abbiamo.